Benvenuti in questo video, ciao ragazzi come state? Ho fatto una fredda al contrario però fa niente. Allora, quest'oggi vi porterò un gioco molto molto bello che si fa con un mazzo di carte blu, a me no, io ce l'ho blu, un plastico blu. Questo gioco è molto bello, è anche abbastanza un po' complicato, però è bello, se volete la spiegazione arriviamo ai 10 like, iscrivetevi al canale, saluto due ragazzi che mi hanno chiesto se lo salutavano in un video, uno si chiama Pietro e un altro non lo so, non mi ricordo comunque, ciao. E niente, iscrivetevi al canale, mettete like, se non ci metteci like e vi ho fatto il tutorial e iniziamo. Ciao. 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 Ciao.